ciao a tutti io sono stu energy e benvenuti in questo vlog di fine estate quasi dai quasi oggi che sto registrando è passato ferragosto e le mie ferie sono stanno volgendo al termine allora ho detto perché non fare il punto dopo tanti mesi non so neanche quanti mesi sono che non faccio più un vlog anche perché forse l'ho detto poche volte visto che i numeri del del canale stanno decisamente secondo me bene magari qualche d'uno direbbe che siamo ancora un canale insignificante io sono assolutamente ogni volta che li guardo sono emozionatissimo e sono assolutamente contentissimo di quello che stiamo realizzando assieme volevo appunto condividere con voi questi questi pensieri intanto nello sfondo ho messo il video che sta andando oramai verso vette che io non avrei minimamente pensato questo è il numero il video numero uno di westfield sinceramente quando io due anni fa ho iniziato e ho cominciato la serie di westfield ne uscivo da un'esperienza di due anni su su twitch e quindi avevo streamato solo in inglese avevo fatto tutto in inglese ho iniziato a streamare prima della pandemia quindi la pandemia mi ha dato una mano mentre facevo streaming però io ho iniziato un mese prima della pandemia quindi non è che ho iniziato perché c'era ho iniziato e poi tutta una serie di avventure mi hanno portato ad avere questo piccolo canale canale twitch in inglese principalmente con un sacco di amici per me sono tanti amici inglesi aveva adesso molto meno ne sono rimasti molto meno però qualche d'uno nell'ambiente si ricorda ancora di quello che spammava pizze perché il mio la mia emoticon era era una una pizza una pizza il gelato e poi la bondiera italiana ovviamente perché ci tengo e che dire i numeri del canale sono sono belli eben tanto che vediamo questo eh questa questa partenza per me sono lì sono molto belli eh perché innanzitutto ci Ci sono più di 500 da quando il canale è nato, 550.000 visualizzazioni, tempo di visualizzazione più di 86.000 ore e gli iscritti ci stiamo avvicinando ai 3.020 iscritti. Abbiamo passato lo scoglio dei 3.000 e ci sono più di 10 abbonati, variano da 10 a 14. Per me è una cosa veramente bella e devo ringraziare gli abbonati che mi supportano veramente tanto, mi fanno sentire che ho degli amici che appunto credono, danno un valore piccolo a quello che è il canale. Perché ho fatto questo canale? Non certo per diventare milionario, no, ve lo confesso, l'ho fatto per una cosa sola, ho voluto provare a vedere se c'era spazio per creare una piccola community in italiano. Perché mi sembrava pazzesco che un gioco con 12 milioni di copie vendute e che stabilmente su Twitch porta avanti una piccola comunità ma comunque attiva e molto bella. La comunità di Skylands l'ho trovata molto molto bella e accogliente perché non ci sono praticamente mai flame, il gioco non è competitivo ma non è detto perché anche altri giochi non competitivi portano magari a avere flame. E devo dire che piano piano la community sta arrivando. Poi ho voluto ancora alzare l'asticella una volta arrivati con Westfield a un buon numero di persone ho detto perché non iniziare a fare le guide. Visto che ho trovato degli amici su un canale Telegram su Project Paradox Italia, ho detto perché no non andare a fare una serie di guide base come non esistono in italiano. Guide base passo passo e ho cominciato dalle guide base. Poi siamo andati con le guide intermedie e qualche guida avanzata. Con le guide ci siamo un po' fermati, adesso aspettiamo City Skylands 2, sto facendo ancora qualche episodio perché mi è venuta l'ispirazione, vedremo le cose. Non penso che andremo a cancellare completamente le guide di Skylands 1, però ovviamente da settembre in poi, soprattutto andando in vista del 24 ottobre, date in cui Skylands 2 sarà in uscita, il canale sarà in cambiamento perché ovviamente gran parte del mio tempo sarà dedicato a imparare e capire bene City Skylands 2. Cosa fare? A me mancano molto le live, mi manca molto il contatto con le persone, il contatto anche comunque virtuale, ma a me piace comunque discutere, avere persone che mi suggeriscono cose. Mi piace, mi piace perché riesco a farmi venire idee nuove, mi piace poter condividere un pensiero, uno screenshot, mi piace l'idea di avere una comunità. Spero che questo possa andare avanti, sto tentando, se sono o sono presente su Discord, non riesco a rispondere e a mettere contenuti su Discord come vorrei. Quindi, l'ho detto in tanti video, lo dico anche qua, se volete contribuire su Discord, streammate pure i giochi che state facendo. Non è che dovete essere youtuber o streamer pazzeschi per andare a streamare lì. Lo sapete benissimo, i canali Discord hanno un canale vocale, andate a streamare il gioco che state facendo, attivate il microfono e vi fate sicuramente dei nuovi amici. Se volete fare, se volete streamare giochi anche differenti da City Skylands, fatelo. Tenterò di vedere se ci sono un paio di persone più attive che mi danno una mano a moderare anche comunque il canale Discord, perché non voglio che nascano incomprensioni e diciamo cose spiacevoli. Per cui, ecco, andatemi, sentitevi liberi di appunto suggerire eventuali giochi e o cambiamenti. Adesso il canale sta portando avanti le guide, Dream Valley e Golden Dream, che è la nostra, tra virgolette, nuova serie Vanilla. Light Valley, che è la serie con le mod. E poi Foundation, queste sono le serie di City Skylands, che sono principalmente. Io non gioco solo a quelli, io gioco anche a parecchi altri giochi. Anzi, vi faccio vedere un attimo il mio profilo Steam e così vedete quali giochi vado a fare. Ecco, questi sono i giochi che ho giocato ultimamente. Ultimamente ho fatto delle cose su City Skylands. Ho installato Baldur's Gate 1. Ho Baldur's Gate 1 e 2 e così a margine, piano piano, ho finito il tutorial. Vorrei iniziare a farlo. Ho chiesto e me l'hanno data la playtest, forse se la chiedete ve la danno anche a voi, penso di sì, di questo piccolo gioco Builders of Egypt. Boh, vedremo, è ancora molto molto acerbo, non so, ce ne sono già parecchi di questi simulatori di città egiziane, non so, sinceramente. Mi sto divertendo parecchio con Jurassic World Evolution 2. Mi sto divertendo parecchio perché ho sentito dire da un content creator che ammiro tantissimo, che è Rudy Rencammel, che Jurassic World Evolution 2 è migliorato molto, anche lui si ci sta dedicando. Allora ho voluto provare e vediamo, vediamo, ho finito tutte le campagne tutorial, sto iniziando le campagne più serie. Potremmo fare delle serie? Potremmo fare, non lo so, vedremo, vedremo se mi sentirò abbastanza, non sono per niente bravo. Anzi, ringrazio Mr. Fabry che ogni tanto mi dà una mano, mi toglie da qualche incastro, però potrebbe essere interessante giocare assieme e se faccio stupidate amme, infine, ecco, sapertemelo dire, potrebbe essere un modo. Hanno migliorato parecchio la parte di dettaglio, hanno migliorato molto, quindi sono stati introdotti non solo i dinosauri classici, ma anche quelli che nuotano, quindi i pesci. Bello, bello, interessante, quindi potrebbe essere bello. Ha una certa sua parte di City Builder, ma non tantissima. Poi un altro gioco, andiamo, ritorniamo sul profilo. Altri giochi che potremmo introdurre, ce ne sono, ce ne sono molti, no, Europa Universale, lo so, l'ho acceso. Ovviamente Foundation e un mio amore è questo, Oxygen Not Included. Oxygen Not Included è per me bellissimo. Bellissimo per me, è un gioco fantastico. È un gioco molto, molto bello, sembra una stupidata, però è molto bello, molto, mi è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto riuscire a non incastrarmi, riesco a arrivare fino a un certo punto. E poi, e poi, ovviamente le cose si vanno a complicare con tutte queste cose che si possono fare. Molto, molto buffo, fantascientifico, quindi assolutamente irreale, però bello, pazzesco. Non so se riusciremo ad introdurre qualcosa, ecco però potrebbe essere che a margine di Cities Skylines 2 qualcosa si riuscirà a fare. Sto pensando a come introdurre un momento di live, allora sicuramente la settimana prossima con gli abbonati farò, proverò a fare una registrazione. La prima volta che ho provato a farla mesi fa non sono riuscito a farla per problemi di hardware col mio PC, che dovrò andare a sicuramente potenziare, perché con Cities Skylines 2 il mio processore non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa neanche a registrare, streamare Cities in Discord e a registrare voi che parlate in Discord, perché mi lagga tutto. Quindi non evidentemente è arrivato alla frutta, se anche andiamo a togliere Oxygen Not Included. E poi le idee ne ho tante, tempo ne ho poco, perché mi piacerebbe andare a fare qualche puntata su un gioco che è assolutamente... I giochi che ho installati... Vi faccio vedere i giochi che ho installato, guardate. Allora, questi sono i giochi che ho installati sul mio PC. Quindi ho installato, ho giocato tanto a Stardew Valley, non sono bravo, però conosco un po', un po' di Stardew, ho solo 100-140 ore, non tantissime. Mi piacerebbe vedere con voi Banished, un gioco di 10 anni fa, che ha iniziato... Ho giocato poco, come vedete, però ci ho giocato un po' all'epoca. Ha iniziato i Survival, cioè Foundation e tutti gli altri derivano da questo fantastico, mitico gioco e tanti altri. Ecco, volevo fare il punto sul canale, volevo ringraziarvi e volevo dirvi che appunto questo è quanto... Abbiamo fatto, quanto abbiamo raggiunto assieme con la vostra presenza. Tutto questo non sarebbe stato assolutamente possibile. Per cui aspettiamo City Skylines 2 e andiamo a vedere che cosa viene fuori con le prossime uscite. Grazie mille, grazie a tutti, ci vediamo col prossimo vlog, ci vediamo con gli abbonati la settimana prossima. Fatevi sentire con un ciao sulla parte abbonati del server Discord, così ci possiamo mettere d'accordo sul giorno. Mercoledì sicuramente tenterò di vedere se si riesce a vedere il gameplay. Quindi se si riesce a vedere il gameplay di City Skylines 2 potrebbe essere che qualcosa su Discord si organizza. Potremmo commentare anche in diretta, magari commentandolo mentre si sta svolgendo il gameplay, potrebbe anche essere un'idea. Ci sarà dalle 6 in poi, vedo di organizzarmi con la cena, eccetera. Però sicuramente con gli abbonati la prossima settimana faremo un momento di discussione assieme. Ci conosceremo e cominceremo a buttare giù qualche idea. Per cui grazie, fino alla prossima vi abbraccio tanto e vi ringrazio tanto per il supporto. Ciao a tutti, ciao!